Ciao ragazze, eccomi qui per un nuovo video, questa volta riguarda qualche acquisto che ho fatto con i saldi, in particolare quando sono andata ad Arona, quindi se volete vedere il mio diretto, la mia giornata passata ad Arona e il relativo video outfit vi lascio il link qui e come avevo detto in quel video sono andata da Golden Point che ad Arona ha aperto a febbraio, quindi da pochi mesi e ho comprato delle cosine, allora volevo farvele vedere, ah in particolare per prima cosa questo vestitino delizioso che è Sirene Navi, bianco e blu che ho indossato in un video che non ho ancora messo sul canale, non so se caricherò prima questo oppure quello in cui indosso questo vestitino, magari farò anche un video outfit per farvi vedere come è indossato perché soprattutto i vestitini non rendono, in generale comunque tutti i vestiti fatti vedere così non rendono come indossati ovviamente, è molto corto e appunto ha questa collatura non molto profonda, giro collo con questa particolarità sul davanti, questa goccia che lascia intravedere la pelle sottostante e alla fine abbiamo questa gonnellina, è tipo un po' stile Charleston e questa gonnellina corta con queste righe bianche, una più piccola e una più grande in basso, è veramente molto carino e ho speso pochissimo perché l'ho pagato soltanto 9,90 euro, scontato del 50%, come secondo acquisto invece ho deciso di acquistare due paia di leggings o meglio, questi che sono sicuramente un po' particolari, che cercavo da tempo, che sono dei leggings fatti così, sembrano dei jeans perché a base che sono comunque di un tessuto abbastanza spesso e il vestitino era della CC se vi interessa. Questi leggings sono così, sono un po' corti, cioè non arrivano fino alla caviglia ma si fermano leggermente prima e hanno questa cernierina sul fondo, come vedete, che è possibile lasciare anche aperta o leggermente aperta, arriva meno qua e poi hanno delle vere e proprie tasche sul retro, quindi come se fossero dei veri e propri pantaloni e sono di un blu scuro, c'erano anche di altri colori e li ho pagati sempre 9 euro scontati del 50% e poi ho preso un altro paio di leggings, questa volta di leggings semplicissimi, neri, quindi che non vogliono simulare l'effetto pantalone ma proprio sono solo dei leggings, sono così, questa volta però li ho presi lunghi fino alle caviglie e hanno sempre questa cerniera diversa dall'altra sul fondo. Sono molto di ottima qualità, io ho avuto tanti leggings neri perché comunque è un capo che indosso spesso, che abbino molto con dei vestiti molto corti, dipende dalle occasioni, ho dei leggings neri che metto ad esempio per andare in palestra, quindi li uso tantissimo e ci sono dei leggings che veramente sono di bassa qualità, il tessuto è molto fine, troppo sottile, questi invece si riconoscono ovviamente per la qualità del tessuto, per il fatto che hanno questo elastico in vita che è molto ben definito, rifinito proprio bene, anche la parte sottostante, altri disegni che intimissimi vendeva i leggings che erano assi anche in saldo un po' di mesi fa che erano veramente fatti male perché sotto sembravano quasi tagliati, cioè non erano neanche definiti, non c'era neanche la cucitura e quindi si stava parlando comunque di leggings che non costavano poco perché ormai intimissimi si sa che ha anche dei prezzi abbastanza elevati, quindi questi veramente sono ottimi. E poi infine ho comprato questo stupendo, meraviglioso, incredibile costume da bagno che è questo qui, è un trichini, è molto particolare, anche questo in un video outfit magari quando sarò al mare ve lo farò vedere indossato perché è merita ed è tutto a uno strato verde sopra del piccio nero, è bellissimo ed è fatto appunto così come potete vedere, così. Solo per farvi vedere il tessuto che è fatto in questo modo, vi faccio vedere il catalogo. Allora, questo è il catalogo e la foto, ecco qua, questa spero che si veda, è la foto, questa qui, c'era lo stesso modello però fatto a due pezzi, quindi è quello sopra. E' veramente molto 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 bello e anche questo era scontato del 50%, costava inizialmente 50 euro. E un altro costume molto elegante che trovo veramente raffinato è questo invece che potete vedere dalla foto. La parte sopra è di un loro dicono crema, in realtà è un bianco panna perché il crema lo associo più a un bianco più sul tono del giallino, diciamo. E sotto invece non è nero, è un color mattice, un marrone molto scuro, è veramente molto bello questo costume. E lo vedo adattissimo, beh, non alle giovanissime magari, quindi dai 20 anni in su, cioè comunque anche ad una signora, ad una bella signora, cioè lo vedo perfetto, ma lo vedo perfetto anche ad una 25enne, se vuole essere molto chic, elegante, in base anche ai posti dove andate in vacanza. E questo è veramente carino, anche questo è un prezzo di 60 euro scontato, quindi 30 euro. E poi volevo farvi vedere, invece ce n'era un altro, che ha un costo veramente ridotto, perché tutto il bichini, questo qui, costa solo 24 euro scontato, quindi 12 euro. C'è in varie colorazioni, c'è bianco, azzurro, l'arancione e quello rosa, che vedete nella fotografia. Ed è molto particolare, perché non è un semplice bichini, ma ha delle parti che sono tutte lavorate, tipo, non fitto, però il tessuto ha dei ricami, diciamo, è tutto ricamato, è veramente carino, soprattutto quello rosa, questo della fotografia, perché è veramente un bel rosa. Mentre l'arancione e l'azzurro non mi piacevano tanti, il bianco, ovviamente, è un passpartù e va bene sempre. Niente, questo è il catalogo, io, come vi avevo già detto in altri video, mi piace tantissimo guardare i cataloghi e guardo tutto quello che mi piace, cerchio le cose che vorrei, insomma, la mia lista degli slayeri, mi faccio, e guardo come sono truccate le modelle, la location, utilizzate per scattare le fotografie, per il servizio fotografico, quindi, insomma, studio un po' questi cataloghi. E niente, quindi questi erano i miei acquisti con i saldi da Golden Point, spero che questo video vi abbia divertito, che magari possiate trarre spunto dai miei acquisti, e ci vediamo al prossimo. Ciao!